Un 8 marzo per ribadire attraverso vari linguaggi il ruolo delle donne nella vita pubblica, professionale e privata. Una celebrazione non rituale che attraverso il teatro, la musica e il cinema vuole raccontare l'universo femminile e le sue conquiste sociali, senza dimenticare i passi che la società ancora deve percorrere per cancellare le discriminazioni di cui le donne oggi sono oggetto. E' con questo spirito che il Consiglio regionale del Piemonte partecipa alla giornata internazionale della donna, proponendo quattro appuntamenti aperti a tutti. Si comincia giovedì 7 marzo ad Astia, alle 14.30, nella Sala Tovo della provincia, verrà presentato il sito web SOS Donna, dedicato ai percorsi attivi contro la violenza alle donne. Venerdì 8 marzo a Torino, su proposta dell'Associazione Culturale Teatro del Disagio, il Comitato Resistenza e Costituzione propone al Polo del Novecento lo spettacolo Ragazze e Coraggio, che il cantautore Gian Piero Aloisio ha dedicato alle donne partigiane. Sempre venerdì, al Cinema Ideal di Torino, la consulta regionale femminile ha organizzato la proiezione riservata ai ragazzi degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado del film Il diritto di contare. Infine, su proposta della consulta regionale delle lette, l'8 marzo, nell'Aula Consigliare di Palazzo Lascaris, è prevista la messa in scena della rappresentazione teatrale monumentale dimenticanza della compagnia teatrale Arte e Muda. In questi cinque anni di Consiglio regionale le iniziative sia contro la violenza sulle donne e sia per la valorizzazione e la partecipazione delle donne nell'amministrazione sono state tante. Abbiamo provato a contrastare la violenza sulle donne e anche dare dei messaggi positivi, invece di partecipazione alla vita attiva e anche cercare di capire qual è stata l'evoluzione nella società del ruolo femminile e considerare la donna in tutte le sue sfaccettature come figlia, come madre, come compagna, come lavoratrice, come donna che è impegnata nelle istituzioni. Il programma completo e tutte le informazioni sulle iniziative del Consiglio regionale del Piemonte per la giornata dell'8 marzo sono disponibili sul sito www.cr.piemonte.it